Buongiorno ragazzi, oggi io e Tui vi facciamo vedere un bellissimo posto dove fare assolutamente colazione in realtà lo vede anche Tui per la prima volta, andiamo Pronta? Eh? È bello sto posto Andiamo Ok, vai Sì, sì Grazie C'è anche tanto cibo, è veramente buono Ok, ce n'ho dato il numero 17, ci andiamo a scegliere il posto e direi di metterci qua Intanto guardate che vista incredibile Wow Questo è il fabbricato, praticamente è un cerchio tutto a vetri Tui sembra affamata, già si è accomodata Vi faccio vedere bene all'interno perché merita veramente bellissimo Bello, eh? Siamo cambiato posto perché lì non era troppo panoramico e ci siamo messi qui proprio accanto al vetro Almeno guardiamo un po' di mare e ci ricarichiamo le pile da tutta la giornata Ok, per oggi Forse, per lì, per lì, per lì, per lì, per lì Per lì, per lì, per lì, per lì, per lì Per lì, ris Jadi con lo chbelt Per lì, per lì, si è tutte Grazie a tutti.